Un altro episodio di Cattivo Gusto è stato registrato al Grande Fratello Vip. Protagonista, Edoardo Donnamaria, che ha riso di un insulto rivolto ad Antonella Fiordelisi. Tutto è accaduto mentre il volto di Forum si trovava in giardino assieme a Luca Onestini. Ad un certo punto si sono sentite delle grida provenienti dall'esterno. Palesi frasi offensive nei confronti di Antonella. Edoardo ha pensato bene di farsi una grassa risata, per poi riportare l'insulto all'influencer campana, sempre sghignazzando. Intercettata da Anasaber, le ha domandato di chiamare la fidanzata, e nonostante i tentativi di dissuasione di Luca Onestini, ha aggiunto. Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico. Deve sapere quello che pensano tutti. Così Donnamaria le ha riferito quanto sentito, con piglio tutt'altro che protettivo, o di condanna. Antonella è apparsa incredula e basita, non capacitandosi di quanto verificatosi. Il volto di Forum, per farle capire che non stava scherzando, ha scandito. Secondo te me lo invento? Probabilmente è in arrivo un'altra ramanzina da parte di Alfonso Signorini. Che ne pensate del comportamento di Edoardo nei confronti di Antonella? A voi i commenti!